Fede, commozione, emozione, c'è tutto per la festa della Madonna delle Grazie che ricorre il 2 luglio e che poi sostanzialmente è anche la festa più partecipata a Gela. Sì, possiamo dire che è una festa caratterizzata da una tradizione popolare, è una fede popolare. Poi è una fede liturgica e una fede, possiamo dire, anche cittadina perché l'intera città è coinvolta in questa grande venerazione alla Madre del Signore con il titolo di Maria Santissima delle Grazie. Un programma ricco di iniziativa. Quest'anno sì, quest'anno abbiamo arricchito un po' il programma perché la settina non può essere una settimana solo di celebrazione eucaristica e sfogliamento. Abbiamo messo all'interno tre grandi avvenimenti. Uno abbiamo fatto ieri sera che era una grande veglia mariana e questo piazzale era molto pieno. Domani faremo una grande celebrazione penitenziale, ci saranno tanti sacerdoti della città e il 30 su quello palcoscenico vivremo un momento di adorazione eucaristica. Tutto in ricordo e memoria di Fra Rocco Quattrocchi? Tutto in ricordo di Rocco, in ricordo di questa festa che ogni anno che passa noi riusciamo a dare un tocco sempre più concreto, sempre più di miglioramento riguardo ai festeggiamenti della Madonna delle Grazie. Cosa chiedono i fedeli, cosa chiedono i gelesi alla Madonna delle Grazie ora in un momento così particolarmente buio sotto l'aspetto occupazionale? Credo che i gelesi chiedano innanzitutto l'intervento della Madonna delle Grazie per ciò che vive la città. La città vive un momento, possiamo dire, un po' di caos. La città, i fedeli che vengono pregano per il lavoro, pregano per la salute, pregano per il cambiamento nella nostra città. Non dico nostra perché sono messo a voi già da tre anni e vedo le problematiche che è la città. Grande povertà, grande bisogno, quanta gente bussa alla nostra porta. Credo che chi entra in questo santuario chiede per intercessione di Maria proprio questo, un miglioramento nella propria vita, un benessere che da molto tempo è venuto a mancare nella città di Gela. Il giorno clou è sabato 2 luglio e come si svilupperà in quell'occasione la giornata? Il giorno 2 noi iniziamo presto, una prima messa alle 6 del mattino, 7, 8, 9, 10, 11 e mezzogiorno, l'ultima messa, sempre con l'esfogliamento dei bambini alla fine delle messe. E alle ore 16 noi partiamo con la processione, che poi con rientro tarda notte. Con i fuochi d'artificio? Con i fuochi d'artificio, sì. Con i fuochi d'artificio.